Niente di personale. Devo soltanto porre fine alle vostre vite. Devo trovare una via d'uscita. Ok, va bene. Si può sistemare. Devo solo capire come fare. Non è proprio letale, ma mi farà guadagnare tempo. I vostri sforzi mettono ancora più in pericolo il genere umano. Le armi biologiche di questa ricerca sono una minaccia per il mondo. La vostra morte sarà un ulteriore... Carico al massimo! Non sopporto chi fa battute sul mio nome! Queste creature non dovevano esistere, ma perlomeno mi saranno utili. Non posso restare con le mani in mano e lasciarvi fare. Beh, ha mali estremi. Estremi rimedi. Proprio come avevo previsto. Non sopravviverete mai. È inutile. Flash, pronto! Porca vacca! È incredibile che siate arrivati fin qui. Tuttavia, devo eliminarvi una volta per tutte. Accogliete la vostra morte. Mi hanno infettato. Non vado a vivere. Posso occuparvene io stessa. Posere, Alger! Molto bene. Prendete pure la testa. Ho tutto il tempo per fermarvi. Invece io ora, ineditabile. Usciamo il pacchetto giù. Su, arrendetevi. Shut up! Questo è per quanto hai dimenticato il tuo compleanno, William. Posso crederci! Posso crederci! Al minimo contatto per il tuo spinto! Acceso! Caricare! Sei un passo dalla morte! Sei un passo dalla morte! Arrediti! Arrediti! Cono. No! Cosa! Beh! Cosa! Di È un metodo barbaro. Ma sono certa che andrà più che bene. Non sopporto chi fa fatto bene. Non sopporto. Ho per forza intervenire io. Carica, carica, carica! Carica, 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 carica! Carica, 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 carica. Possiamo andarcene! Un successo trascurabile, direi. Non montatevi la testa. LESCI AL MASSIMO! Un metodo barbaro. Ma sono certa che andrà più che bene. Proprio come avevo previsto Mi sorprende che siate arrivati fin qui Serve un cambio di strategia Non ma Sono a rendere Sono in ecstasy! Posso occuparmene io stessa. Lampino! Mi sento troppo! Ci penso io! Senti interessati! Accecati! Credo sia il momento di dire basta. Sono in petto. Devo stare attento. Perfetto! Avvi qua! Perfetto! Non sopporto chi fa battute sul mio nome! Ah, bene! William! Mettiamo la parola fine a questa storia! Sì! Sì! Adesso niente! E potrà più fermarmi! Mi sento troppo! Sì! 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 Oh, ferma a guardare! Scusate, andiamo! sono in ecstasy il vostro narcisismo sarà la rovina del mondo Accogliete la vostra morte Non vi accopervi gli occhi Al minimo contatto che ne vengono scelte William, una volta eliminate le tracce del nostro passato Potrai riposare anche tu Non ho la tua scorda Chasero, hikari kato Prima di non sparvi spaventici. Sono inizi! Ora sarà molto più semplice farvi fuori. Queste creature non dovevano esistere. Perlomeno vi saranno utili. C'eravate quasi riusciti. Ok, Martin. È l'ora di correre nella parte opposta. Ma che... Ma come fa a essere così efficace? Beh... Non so' farlo. Non so' farlo. Non so' farlo. Che bello, libertà! Mi mancherà far saltare in aria teste e zombie Riviverò tutto nei sogni È davvero la fine! Il vostro egoismo ha condannato il genere umano!